Sono stata invitata a questo evento per presentare un progetto europeo finanziato nell'ambito del programma Interreg Central Europe. Il progetto si chiama Benefit e ha intenzione di lavorare sul concetto di gestione sostenibile del centro storico e sullo sviluppo di strumenti finalizzati a supportare una maggiore sostenibilità di questa gestione. Ritengo che sia una tematica di grande attualità per quello che è il contesto italiano e per l'area specifica di Mirandola e più in generale del terremoto in cui ci troviamo oggi. Sicuramente il progetto è molto ambizioso, ha diverse aree pilota in giro per l'Europa nelle quali verranno testati i risultati del progetto stesso. sconta però una differenza di approccio culturale alla tematica del centro storico e del restauro che oggi anche nel dibattito che si è appena svolto e che è venuta fuori e che ha mostrato la peculiarità tutta italiana in termini di approccio all'edificazione storica e alle aree costruite storiche. Sicuramente ciò che emerge dalle prime battute di questo progetto è la specificità italiana con una ricchezza di portato culturale nel riconoscere il palinsesto degli edifici storici che si scontra però con tutte le difficoltà e le esigenze della vita contemporanea in primis l'efficientamento energetico ma anche i temi della mobilità, della sicurezza, del confort abitativo e che quindi all'interno del progetto europeo sta portando delle grosse riflessioni di cui anche noi italiani pur orgogliosi del nostro portato culturale e della nostra specificità dobbiamo necessariamente farci carico e aprire alla riflessione.